Buongiorno Fagnano, eccoci con il video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo col dire che martedì il nostro comune sarà attraversato dalla gara ciclistica le tre valli varesine, la strada percorsa sarà quella di via per Busto, via Armando Diaz e via Aldo Moro. Tengo a precisare che sarà divisa in due momenti perché sarà la gara femminile e la gara maschile, quindi potrebbero essere problemi di transito su quella via dalle ore 9.15 alle ore 9.30 per il passaggio della gara femminile e dalle ore 12.15 alle ore 12.30 per il passaggio della gara maschile, portate molta attenzione. Gli eventi del fine settimana, venerdì 4 ottobre, quindi oggi, in Aula Magna, Benvenuto Piazza alle ore 18, una serata dedicata al Patto Educativo Territoriale. In quel momento verranno presentati una serie di progetti dedicati ai ragazzi, alle ragazze e anche ai genitori, quindi vi invito a partecipare perché è davvero un momento interessante organizzato dal Patto Educativo Territoriale. Domani, invece, che è sabato 5 ottobre, inizia la rassegna teatrale senza sipario, sempre in Aula Magna, Benvenuto Piazza di Piazza da Fredo di Dio, alle ore 21 con ingresso gratuito, il primo spettacolo che è Calendar Girls, che è questo qua che vedete sulla locandina. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti!